Sto discutendo con un PNG? Assurdo! Forse... c'è un bug nel sistema? Sebas! Comandi! Farò bene a impartirgli un ordine. Ci rifletterò dopo. Sebas, esci dalla catacomba e ispeziona l'aria ai confini di Nazarick. Agli ordini, padron Nomonga. Sarà fatto. Voi Pleiade dirigetevi al nono piano e proteggetelo da possibili intrusi.